Buonasera dal telegiornale Treviso, edizione dominicale dei nostri notiziari e quindi vediamo insieme quali sono state le notizie caratteristiche particolari di questa settimana. Medi Cairi, l'operaio marocchino di 42 anni, è stato ritrovato a cadaveri in un lago di sangue, riverso a terra tra la cucina e il serotto, nella mansarda della villetta in cui abitava, qui lungo via Roma, a Miane. Stelle coltellate inferte dall'assassino ancora senza un volto, delle quali due fendenti che lo avrebbero colpito a morte con un coltello da cucina, ritrovato sul luogo del delitto. L'assassino, per gli inquirenti inconnazionale, prima di fuggire a bordo dell'auto della vittima, un Alfa 147 nera, avrebbe lasciato sprovedutamente numerose tracce del suo passaggio, tra cui diverse impronte delle scarpe, oltre ad altre tracce biologiche. Domani sarà l'autopsia a svelare nuovi particolari per il delitto in cui l'operaio sembra sia stato lasciato morire in una lenta agonia. Un omicidio avvolto nel mistero e raccapricciante, dice oggi il sindaco. Questa vicenda sicuramente ci ha lasciati con la bocca aperta, ci ha stupito e soprattutto ci ha lasciato una grandissima tristezza nel cuore. Questi atti sono atti che non devono succedere per nessun motivo al mondo, non sono atti imputabili di un essere umano ma di una bestia. E mentre caccia al killer in fuga composto di blocchi in provincia come fuori, resta ancora un giallo e il muovente dell'omicidio, con i carabinieri di Treviso incaricati dalle indagini che si starebbero muovendo su due fronti. La pista appassionale da una parte, ma anche quella della criminalità dall'altra. Poiché è incensurato, non si scude infatti che certi connazionali volessero chiedere all'operaio particolari quanto illegali favori. Da qui l'ipotesi di una violenta lite trasformatasi poi in follia omicida. Io credo che questo episodio vada oltre il colore della pelle. Queste cose non devono succedere né tra gli italiani né tra gli stranieri. Quindi sono le regole per una convivenza civile e questo non fa parte della convivenza civile. Un'autentica lezione sul campo. È quella che hanno potuto seguire gli studenti del liceo veronese di Montebelluna, ospiti degli studi di Rete Veneta a Treviso. I ragazzi hanno avuto l'occasione di visitare gli studi, seguire almeno in parte il lavoro di redazione di un telegiornale, assistere a una diretta televisiva e perfino provare l'esperienza di sedersi alla postazione del telegiornale. Metà dei 43 studenti presenti oggi a Rete Veneta partecipa al concorso scolastico di giornalismo e collabora a un piccolo notiziario, un motivo in più per seguire con attenzione e sfruttare l'opportunità di visitare un vero studio televisivo e una vera redazione. Se la teoria è importante, per i ragazzi è stato ancora più interessante poter osservare da vicino le tante sfaccettature di un lavoro complesso come quello del giornalismo televisivo. Un lavoro che si compone di diversi elementi e di molte professionalità. Tante le domande e le curiosità espresse dai ragazzi durante la loro visita, dai principi dell'informazione alle tecniche di ripresa e di montaggio per una giornata e una lezione sicuramente fuori dal comune. A noi interessa ovviamente che si chiuda questo processo e che si faccia chiarezza. La chiarezza deve essere fatta. Io sono anche fiducioso nell'azione delle procure. So che le procure stanno lavorando e ripongo tutta la mia fiducia come ogni cittadino sul lavoro di magistrato. Portare avanti il processo di risanamento delle banche venete ma anche ogni azione di responsabilità verso chi ha portato Popolare Vicenza e Veneto Banca a questi risultati. Parla ad azionista il presidente del Veneto nel giorno in cui la dirigenza di Corso Palladio ha fissato tra i 10 centesimi e i 3 euro il valore delle azioni nell'aumento di capitale. Un ulteriore colpo ai piccoli azionisti che si sono visti annullare i risparmi di una vita dall'Assemblea che non solo ha votato il depreciamento da 62 a 6 euro ma anche il non luogo a procedere nei confronti della dirigenza Zonin. Mazzaya parla anche da azionista di Veneto Banca nel giorno in cui Carrus ribadisce che ogni decisione definitiva arriverà dopo l'Assemblea del 5 maggio per il nuovo CDA. Amministratore delegato che a Milano fissa a metà giugno il passaggio in borsa e punta dritto verso un accordo con Popolare di Milano e Banco Popolare anche se non sembra tramontata la trattativa di fusione con la Popolare dell'Emilia Romagna. Carrus è convinto che la banca di Montebelluna non avrà bisogno del Fondo Atlante per la ricapitalizzazione a differenza della Vicentina un ulteriore segno dell'estrema difficoltà di Popolare Vicenza che non potrà passare inosservata alla magistratura. C'è un livello giuridico che dà la facoltà all'Assemblea di Soci di votare per l'azione di responsabilità oppure no secondo le proposte del Consiglio di Amministrazione. Si è votato di no. Poi c'è un altro livello che è quello della magistratura che sta indagando. Io non sono un giustizialista. Dico che se c'è qualcosa che non ha funzionato e se questo qualcosa che non ha funzionato è attribuibile a responsabilità personali di qualcuno non ho nomi e cognomi è giusto che la magistratura li faccia emergere e si faccia chiarezza e eventualmente si puniscano coloro che hanno avuto comportamenti non compatibili con la legge. Una beta in fiamme all'interno dell'ex caserma Zanusso suona molto d'avvertimento l'incendio chiaramente doloso che ha avvolto nelle fiamme uno degli alberi all'interno del complesso che a giorni dovrebbe diventare a tutti gli effetti il secondo centro di accoglienza della marca. Oltre 800 i nuovi arrivi previsti dal Ministero nel Trevigiano per i quali davvero ci sono poche soluzioni sul tavolo del prefetto Laura Lega tra l'altro ci sono ancora in ballo i 228 posti di fonte che la cooperativa di gestione non ha nessuna intenzione di abbassare ai 77 calcolati dai tecnici in rapporto all'ex convento di Onè. Se gli uffici regionali dell'Ursa hanno stabilito che per non diffondere malattie infettive ci possono stare al massimo 77 persone io credo che questo sia il numero altri discorsi mi sembrano discorsi sbagliati sono fuori luogo non è che siamo disposti ad accogliere nessuno ma neanche numeri così importanti sono numeri anche perché non capisco c'è la Caritas con 40 persone e riusciva a pagare le spese questi ne vogliono 200 ma per quale motivo? Cosa c'è sotto? Un business legato ai centri d'accoglienza che sarebbe ben diverso con la diffusione degli arrivi in tutti i 95 comuni della marca un tema che domani il sindaco di Treviso con quelli di Casiere e Vittorio Veneto accompagnati dal prefetto Lega porteranno al Ministero. L'obiettivo secondo Giovanni Manildo è di arrivare a pochi profughi in tutti i comuni ma soprattutto all'istituzione di una commissione per la verifica dello stato di rifugiato anche nella marca per individuare e rispedire nei luoghi di origine chi non ha titolo per restare che conti alla mano sulle attuali presenze ovvero 2.100 migranti sarebbero circa 630 poco più di quanti vivono attualmente alle Serena ex caserma con nel frattempo anche una squadra di calcio che martedì si confronterà in un torneo allo stadio di Dosson in quelle che continuano ad essere prove tecniche di integrazione la persona tranquilla l'abbiamo rintracciata in centro a Conegliano che era a spasso passeggiava tranquillamente per il centro di Conegliano dove vive Liliana Ordinanza di 27 anni quando è stata affermata dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso Mohamed Keir il 42enne marocchino trovato morto nella sua abitazione di Miane con il corpo traffitto da una trentina di coltellate la svolta nell'indagine è stata il ritrovamento dell'autovettura il ritrovamento dell'autovettura e quindi collegare l'autovettura nello spazio e nel tempo ha consentito di raccogliere indizi abbastanza gravi nei confronti di questa donna secondo quanto ricostruito dai carabinieri la 27enne avrebbe ucciso l'uomo all'alba dopo aver trascorso la notte insieme a lui e per sua stessa ammissione a fumare crack nel corso dell'interrogatorio ha anche riferito che durante il drogaparty ci sarebbe stata una terza persona ma per ora i carabinieri non hanno riscontri oggettivi per confermarlo poi è fuggita ancora sporca di sangue con l'auto della vittima a cui aveva sottratto le chiavi avrebbe girovagato alcune ore sotto shock prima di abbandonare il mezzo in un'area dove ci sono le telecamere che l'hanno immortalata mentre scende dall'auto in un momento lo stiamo affinando avverosimilmente dovuto a qualcosa che è scattato nel momento in cui erano insieme sembra che la donna non abbia avuto complici ma le indagini continuano per escludere ogni dubbio siamo moderatamente soddisfatti l'omicidio per almeno ha individuato un possibile responsabile sempre perché la parola ultima aspetta al giudice in quelli che sono i tempi fisiologici per cercare di risolvere questi casi più tempo passa più si allontana la possibilità di risolverli diciamo con sufficiente sicurezza L'importante è che dopo aver parlato e comunicato per tanti anni perché sono due o tre anni andiamo avanti con questa questione ci sia qualcuno che venga a parlarmi ovvio che se vengono qua a chiedermi il patrimonio di Asolo gratuitamente mi è impossibile non per mia volontà perché le donazioni si potrebbero anche fare perché la legge me lo impone Convento di San Luigi ad Asolo Muraro rilancia il dialogo con il sindaco Migliorini per evitare la vendita di questo pezzo della città dei cento orizzonti progetti ma soprattutto un piano economico che sostenga in maniera autonoma la storica struttura un futuro possibile anzi atteso da tempo dalla provincia Lo ripeto a Iosa è dal 2008 che il convento è inserito così come deliberato dal Consiglio Provinzale è inserito nelle aree di alienazione ho parlato col vecchio sindaco ho parlato con questo sindaco che da un anno e mezzo è presente ed è dentro come amministratore primo cittadino di Asolo io sono qui che aspetto ancora però dei suggerimenti o delle richieste noi abbiamo inserito questo perché ce lo impone la legge con le nuove normative che sono state applicate che dobbiamo mettere a reddito qualsiasi nostro bene e un patrimonio immobiliare se ha delle idee me le venga a spiegare ma io ne avevo parlato ancora un anno fa con il sindaco di Asolo non ho mai ricevuto una risposta a quelle che possono essere delle proposte o delle idee che l'amministrazione comunale ha Indagini a un passo dalla chiusura quasi due anni dalla tragedia del Molinetto della Croda in cui quattro persone furono uccise dalla piena del fiume dalla procura chiamati a rispondere di omicidio colposo plurimo e disastro colposo in concorso il sindaco Loredana Collodel il presidente della Proloco Walter Scapol oltre a un architetto e a un geologo che hanno firmato il piano di assetto del territorio sono state invitate queste persone a eleggere domicilio per le notifiche e a nominarsi eventualmente un difensore di fiducia saranno gli stessi iscritti al registro degli indagati ora a decidere se presentarsi spontaneamente in procura o attendere eventuali informativi e dati secondo la procura la loro responsabilità risiederebbe nella decisione di autorizzare l'installazione della tensostruttura della Proloco nell'area vicino al Greto dell'Erza dichiarata area a rischio secondo noi sì non si doveva fare qualcosa in quell'area che poi è risultata anche adesso ricompresa tra le aree esondabili quindi questo penso che avrà anche una influenza nella determinazione delle responsabilità il 2 agosto del 2014 4 furono le vittime Maurizio Lotto Giannino Breda Fabrizio Bortolin e Luciano Stella con loro anche 8 le persone rimaste ferite rimane questo segno del terribile impatto di questa mattina dove ha trovato la morte il logotenente dei carabinieri Mariano Stefani 51 anni comandante della stazione di Pederoba siamo sulla provinciale della Val Cavasia vicino lo svincolo con la Feltrina all'altezza dei cementi Piave qui c'è una stradina sterrata che Stefani utilizzava spesso per la corsa mattutina e anche oggi in tuta e scarpe da ginnastica il carabiniere ha percorso la stradina per poi probabilmente tentare l'attraversamento della provinciare verso i viottoli tra i campi di Curogna mancava poco alle 8 quando l'uomo è stato investito dal sopraggiungere di una golf che non è riuscita ad evitarlo l'impatto tremendo non ha lasciato scampo il logotenente Stefani è morto sul colpo una notizia che ha colpito profondamente l'arma dei carabinieri e tutta la comunità di Pederoba con il sindaco Mario Turato che ha proclamato il lutto cittadino la persona disponibile è da poco più di un anno che lavoro a Pederoba in comando e ho sempre avuto le porte aperte appunto nelle difficoltà di ogni giorno nel nostro lavoro da parte del maresciallo ho sempre avuto la massima disponibilità Mario Stefani lascia la moglie e due figlie non è stata ancora fissata la data dei funerali che probabilmente si terranno nella giornata di sabato è proprio il caso di dire quando il Prosecco va a Ruba stando alla vicenda chiusa oggi dai carabinieri con due denunce per furto gravato e continuato ed una per ricettazione a sparire poi ricomparire grazie alle indagini dei militi dell'arma ben 1600 barbatelle di Prosecco pientine messe a dimora con giorni di preparazione del terreno di tracciatura satellitare e costruzione dei filari in due campi di Monfumo e di Pagnano nella Diocigia Asolana e poi sparite in una sola notte un danno notevole sia per quanto sottratto che soprattutto per la mancata produzione un furto manco a dirlo su commissione il Prosecco in questo momento vive un momento felice ma credo che non sia solo il discorso del Prosecco sul quanto riguarda le viti le barbatelle riguarda che sono stati acquistati molti ettari di diritti dalle varie regioni d'Italia e quindi in questo momento la gente non vuole tenere il terreno libero ma vuole impiantare 1600 piantine al mercato nero diciamo così a quanto le vanno poi rivendute? Beh sicuramente i prezzi oggi sono abbastanza sostenuti comunque penso che 3000 euro 3500 se li siano guadagnati un furto faticoso considerando che i due ladri 24 anni italianissimi di San Zenone e di Asolo hanno lavorato tutta una notte per estirpare le piante per aggrupparle e infine per caricarle sul furgone direzione Dolo dove le hanno vendute ad un 32enne che le ha ovviamente ripiantate in suolo padovano pare che adesso le piantine siano nuovamente state sradicate per essere restituite ai legittimi proprietari che ovviamente le hanno reimpiantate questa volta però in un'altra zona tanto lavoro dunque per una vicenda che i proprietari pare abbiano deciso di ricordare con l'etichetta va a lavorare per la prima produzione è meglio che vadano a lavorare piuttosto che rubare sbarco in borsa destinato a sfumare per la popolare di Vicenza oggi l'amministratore delegato della banca Iorio ha parlato del successo della ricapitalizzazione avvenuta a Milano questa mattina specificando che la forcella che è dato alla banca per la quotazione in borsa va da 10 centesimi a 3 euro ad azione chiarendo altresì che 3 euro è il massimo di quotazione ma non specificando se 10 centesimi ad azione equivalgono al minimo con tutti i punti interrogativi a carico della banca senza una chiarezza di bilancio e di responsabilità dice Patrizio Mettello dell'associazione veneta Don Torta l'azione potrebbe essere quotata anche a 5 o peggio a un centesimo nella marca sono oltre 13.000 risparmiatori che si sono visti quasi a zerare i conti con la popolare di Vicenza i risparmiatori cominciano iniziano a prendere la consapevolezza che c'è qualcosa che non guarda e si rendono conto che hanno perso tutto ma fino a pochi giorni fa la gente non si rendeva conto di quello che è successo il governo noi abbiamo chiesto l'istituzione governativa della commissione di inchiesta invece di darci risposta fanno dei decreti anticostituzionali che permetteranno alle banche di portare via la casa in 18 mesi e adesso hanno proposto un altro decreto che leva via le soglie d'usura bancaria ma stiamo ma quello che sta succedendo qua non si stanno fermando purtroppo negli ultimi anni c'è stato un grosso peggioramento del problema degli scarichi delle acque sinceramente negli anni 90 la situazione era quasi migliore da adesso ultimamente negli ultimi anni la situazione degli scarichi da parte delle aziende sono peggiorati e purtroppo le varie segnalazioni che siamo stati costretti a fare ogni volta in base al colore dell'acqua che scorreva nel torrente Fossadel facevamo le segnalazioni lo dimostrano l'inquinamento delle acque un problema che suscita più di una preoccupazione anche nella marca e ora è partito anche un esposto presentato alla procura della Repubblica di Treviso dal Movimento 5 Stelle sullo stato del torrente Fossadel a cavallo tra il territorio di Vittorio Veneto e quello di Conegliano a monte del quale c'è la più grande zona industriale del Veneto in rapporto agli abitanti è un esposto che vuole dare voce ai cittadini fondamentalmente perché nel territorio di Conegliano c'è un caso che presentiamo in questo esposto di inquinamento che si tratta da oltre 10-11 anni di cui sono informati le amministrazioni comunali di cui sono informati l'ARPAV l'ULS e tutti gli organi competenti un caso che copre anche diversi comuni perché va a interferire nel comune di Vittorio Veneto di Conegliano e di Colli Umberto secondo il Movimento 5 Stelle sui temi ambientali c'è ancora poca attenzione un altro caso di acqua inquinata il Movimento 5 Stelle non si ferma anzi continua a lottare per la sicurezza dei cittadini per la salute pubblica acqua inquinata purtroppo in tutto il Veneto ma noi lo prendiamo seriamente affrontiamo il problema andiamo nelle procure e diamo soluzioni concrete perché chi ha inquinato paghi e permettere sicurezza ai cittadini e con quest'ultimo servizio per il telegiornale domenicale è tutto grazie a tutti voi per l'attenzione per aver scelto la nostra informazione e appuntamento alle prossime edizioni per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti